Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto utile e interessante come si fa il ritaglio di layers vettoriali con QGIS. Noi lo faremo molto velocemente e molto facilmente. Abbiamo scaricato dal sito dell'ISTAT gli shapefile relativi per esempio alle regioni italiane e poi dal sito dell'ANAS abbiamo scaricato il grafo con gli shapefile SHP relativi alla rete autostradaria italiana. Allora apriamo subito QGIS. Vi facciamo vedere nel menu impostazioni e opzioni come abbiamo impostato il sistema di riferimento SR. Quando si crea un nuovo progetto usiamo l'EPSG 32632 e quando si carica un nuovo layer o si crea sempre il 32632. Per avere un qualche riferimento siccome nel menu web come vedete noi abbiamo soltanto metasearch noi andiamo nel menu plugin, gestisce e installa plugin e inseriamo quello di Google Map è soltanto per avere un qualche riferimento. Questo tipo di plugin si chiama Quick Map quindi bisogna scrivere Quick Map nel tab non installati vedete si chiama Quick Map Services. Lo selezioniamo e premiamo installa plugin. Questo facciamo per avere come riferimento lo stradario di Google Map e vedere se questi diciamo questi layers che noi aggiungeremo si sovrappongono bene alla penisola italiana. Facciamo chiudi e per vedere qualcosa adesso andiamo nel menu web e vediamo che c'è Quick Map Services. Ci sono un sacco di servizi di mappe. Noi scegliamo Google e facciamo Google Road che è un pochino più leggero di Google Satellite. Quindi se avete dei computer un po' lenti e chiedere di ricostruire diciamo tutte le immagini di Google Satellite è un pochino pesante. Clicchiamo più e andiamo nella nostra Italia. Attendiamo un attimo che lo viene ricaricato. E eccoci qua con la manina. Abbiamo messo praticamente l'Italia, lo stradario di Google Map. Ed ecco che c'è nel nostro pannello di layer il primo layer. Allora adesso noi dobbiamo aggiungere delle entità vettoriali. Quindi andiamo nel menu layer, facciamo aggiungi layer, aggiungi vettore e peschiamo all'interno della nostra cartella nella scrivania per esempio del listat all'interno della sottocartella regioni, lo shapefile shp delle regioni così vediamo le nostre regioni in formato vettoriale. Vi facciamo aggiungi. Chiudiamo ed ecco come vedete si è precisamente sovrapposto questo nuovo layer se noi togliamo il segno di spunta si è sovrapposto precisamente a quello di Google. Allora noi che cosa facciamo adesso? Se facciamo tasto destro e vediamo apri tabella attributi possiamo vedere che qui ci sono le diverse regioni, noi vogliamo selezionare la Liguria e la Toscana, la cerchiamo, clicchiamo qua Piemonte, Lombardia, Liguria e clicchiamo il segno di spunta qua, continuiamo a cercare la Toscana, Trentino Alto Agile, Mila Romagna, Friuli Vede, Umbria, Toscana, premiamo control sulla tastiera e clicchiamo il quadratino, control perché abbiamo selezionato due entità, cioè all'interno di tutto il layer vettoriale delle regioni italiane noi vogliamo solo queste due regioni, Liguria e Toscana. Adesso che cosa facciamo? Possiamo cliccare qua, vedete zoom, mappa, le righe selezionate. Clicchiamo, chiudiamo ed ecco che vediamo che all'interno per esempio di questa entità vettoriale noi abbiamo selezionato solo due regioni. Possiamo fare adesso tasto destro e poi possiamo fare ad esempio esporta e diciamo soltanto gli elementi selezionati, d'accordo? Salva elementi selezionati come? Lo clicchiamo e noi scriviamo come nome file regione, scriviamo bene regione Liguria e Toscana. Stiamo creando in pratica un nuovo layer in cui vengono visualizzate solo due regioni, infatti abbiamo il segno di spunta su salva solo le geometrie selezionate, le geometrie sarebbero appunto le immagini di Liguria di Toscana e aggiungi il file salvato sulla mappa. Facciamo così ok ed ecco che noi vediamo in rosa si è creato un altro layer. Adesso a questo punto il layer di lavoro delle regioni dell'istat possiamo fare tasto destro e rimuovere il layer non ci serve più ed ecco che vedete che rimane come entità vedete soltanto quello che ha Liguria e Toscana. Possiamo fare tasto destro, andare su proprietà ad esempio e all'interno del tab simpologia vedete che noi abbiamo l'unità di misura, l'opacità e il colore e possiamo non so abbassare un pochino l'opacità per poter vedere il layer sottostante che è quello di Google Map. Facciamo ok ed ecco che vedete che noi vediamo contemporaneamente sia il layer che abbiamo selezionato Liguria e Toscana sia quello sottostante di Google Road in trasparenza perché abbiamo fatto l'opacità al 40%. Adesso quello che vogliamo fare che cos'è? Caricare un ennesimo layer vettoriale che è quello del grafo delle autostrade di Anas. Layer, aggiungi layer, vettoriale, andiamo sempre con il tastino nella nostra scrivania e in questo caso è la cartella grafo Anas vedete? E selezioniamo sempre l'SHP, lo shape file perché è il file principale e facciamo Aggiungi. Attendiamo un attimo, vedete che lo sta caricando, quando ha finito ce lo dice, facciamo chiudi e vedete che si intuiscono adesso, non sono dei fiumi, queste sono le autostrade che sono di competenza di Anas, a questo punto noi possiamo anche eliminare il layer, quello che viene dal Map Service di Google, rimuovere layer ed ecco che rimane una specie di scheletro, vedete, di scheletro di tutte le autostrade gestite da Anas, vedete che viene costruito vettorialmente e nel nostro layer regione Lugure e regione Toscana. Adesso vogliamo fare la sottrazione perché noi vogliamo soltanto le autostrade, praticamente le strade gestite da Anas in Ligure Toscana. Come si fa? Si va all'interno del menu Vetture, nel sottomenu strumenti di Geoprocessing e si fa ritaglio. Automaticamente vedete che lui già capisce, che praticamente non ha capito molto bene, in realtà che il grafo dell'Anas, il layer vettoriale grafo dell'Anas, deve essere ritagliato in base al layer Ligure e Toscana. Va bene così? Facciamo esegui, vediamo quanto ci mette, algoritmo in esecuzione, dice che ha finito, chiudiamo, vediamo qual è il risultato, vedete che viene fuori un ennesimo layer che lui che ha automaticamente ritagliato, a questo punto noi possiamo anche togliere la visualizzazione, noi possiamo, vedete, togliere la visualizzazione tutto il grafo Anas e lo possiamo eliminare per nostra convenienza, ovviamente non lo elimineremo dalle cartelle nel computer, nelle cartelle nel computer rimarrà. Facciamo uno zoom con il più e vedete che abbiamo adesso soltanto il grafo delle, vedete, autostrade gestite dall'Anas nella regione Liguria e Toscana perché noi dal reservoir di dati dell'Istat abbiamo selezionato soltanto la Liguria e la Toscana. Beh, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo seguito fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.